Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova serie e oggi vi farò vedere come si fanno le presentazioni su Google Drive Prima di tutto bisogna andare su Chrome e poi andare qua Vai, Drive E qui ci sono delle mie presentazioni che vi devo far vedere Alcune però si sono già fatte vedere Poi per farne una nuova andiamo su Nuovo Vai in Presentazione Google Presentazione Vuota Ok Allora, una volta arrivato possiamo mettere lo sfondo di tanti tipi come si può vedere alla mia destra Tipo, adesso noi mettiamo questo Questo Ok E mettiamo il titolo Tipo I... no Il Po Il Po, va bene Qui? No, qui non lo vogliamo La casella di testo No, ok Adesso vedrete come si fa Praticamente deve andare qua e evidenziare il bordo Fare così E... aspetta E poi cliccare il tasto Cancel Ecco, cancellato Ok, adesso possiamo Possiamo anche cambiare lo sfondo Vai in sfondo Poi Tipo, mettiamo Tipo, metti Col bianco ci sta bene Sai, ci sta bene questo Sì, ci sta proprio bene Vuoi colorare questa qua? Ok Si va qua Poi Si va qua E voilà Lo sfondo rimane sempre bianco Se no te lo prendi questo Ok Adesso ho finito Questa diapositiva Come si fa ad andare in un'altra diapositiva? Come si fa? Bisogna andare su diapositiva E nuova diapositiva Ecco qua Ok Adesso noi vogliamo un'immagine Allora Io ho lo doppio schermo Quindi prendo questo E lo trascino qua E praticamente ragazzi Adesso Vi farò vedere Come si fa Allora Io ho scelto già un'immagine prima E devi fare Apri il link in un'altra scheda O in un'altra finestra Vai qua Et voilà Ecco qua La Foto Adesso non è abbastanza grande Che facciamo? La allarghiamo Però non vi consiglio di prenderla molto piccola Perché poi diventano sfocate Tipo questa È sfocata Beh ragazzi Comunque è sempre meglio di niente Poi La cambieremo Tanto questa è una diapositiva È una Cosa per voi Ok Adesso aggiungiamo un titolo Tipo Roma 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 calcio Poi vai qua E incomincia a scrivere Si può anche Cambiare il carattere Tipo Tipo A noi Quale ci piacerebbe? Questo Ok Il classico Roma calcio La La Roma È Nata Nel 1927 2027 Punto È troppo fine la scritta ragazzi? Beh Niente Nel 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 problema Basta fare così Fare così E Grossetto Poi Puoi anche Cliccando sempre quello La La Questo Puoi cambiare anche il colore del testo Tipo Tipo Metto l'arancione No E metto un colore più scuro E rosso E poi si continua sempre Sempre così Beh ragazzi Adesso Noi Vogliamo Inserire Una tabella Ok Inseriamola Allora Si va qui In tabella E puoi fare la tabella Di quanto vuoi No Un secolo La faccio più grande Così Tac Eccola qua La nostra tabella Guardate che bella Tipo Scrivo adesso Roma Ma Roma Poi tipo Boh La No Lazio Oh Ok E Lazio Torniamo a scrivere Anzi Poi mettiamo Na Napoli Che lo scrivo così Dai ragazzi Tanto per fare E poi La Brutta squadra di tutte La Juve Allora Roma Vabbè Scriviamo alcuni dati Tipo quello che ho messo io 1927 Ragazzi Non lo so Napoli Non lo so La Juve Non me ne frega Un piffero Guardate ragazzi Tipo qui scriviamo il bomber C'è un giocatore forte di questa squadra E scriviamo Io adesso scrivo Zaniolo Per la Lazio Immobile Aspettate Per il Napoli Mertens Per la Juve Bah La Juve Tutti scarsi Ronaldo Scusate ma non mi piace proprio la Juve Ok Adesso andiamo a queste qua Sempre nel nostro secchiello magico E Andiamo qua Ecco qua Andiamo qua E evidenziamo Ecco qua Questo È il vero Ok Adesso non ci piace lo sfondo bianco Che brutto Vai qua O scegli questi Oppure te lo puoi personalizzare Allora Personalizzare qui Qui Un'azzurrina Ecco ok Questo Fine Guardate ci sta anche bene Sembra in 3D Poi non so per voi come sembra Allora Non vi ho detto Che si può anche cambiare La scrittura Tipo Il carattere Puoi metterlo Di anche 96 Io ci ho provato Terribile Guardate Eh Infatti Adesso infatti Torniamo alla freccetta magica E facciamo così Ok ragazzi Questa puntata Di questa serie Ovvero Drive Presentazione Finisce qua E ai prossimi video E io Sipo